siamo nei pressi dell'ingegneritore di san vittorio del lazio guardate che fumo non si venga a dire che vapore acqueo perché il nero deve essere il nuovo forno che è in vigore e in funzione da un po di mesi da sta parte che bello è un ceneri tour e lì ci sono le mucche natura immondizia di ossina furani pbc policloro bifenili tutto nel cielo e poi ricade in terra ceneri tour ciao 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 ciao